Abbiamo toccato i due apici, te che facevi Mary Lynn e lei che ti picchiava. Mary Lynn! Mary Lynn! Mary Lynn! Mary Lynn! Mary Lynn! Mary Lynn! I ho fatto Mary Lynn! Mary Lynn! Mary Lynn Padova! Io ho avuto Padova! Se questa qui di mena ti gonfia come una zampogna, ti fa un sciucutucu e un tricotracco, cioè sei finito. Ti fa un castro castro! Ale, Franz e Sandro, riassumete quello che è successo ma è l'interrogazione di fine anno e siete alunno somaro e prof acide. Lei è? Lei è? Venga, 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 lei è? Non so con chi stia parlando Ma veramente non stavo parlando Allora, lei è il signor? Allora, tu devi capire O ti siedi qui se è la prof O ti siedi qui se è l'alunno In piedino sei un cazzo Sto decidendo Fai il vitello, fai il vitello E sta lì e mi guarda O ti siedi qui o ti siedi qui Anzo cielo ma Allora Lei è, lei è Besentini, giusto? Besentini Si faccia meredetto Fatto, molto bene Ma questo è scemo No Scusa Non manchi di rispetto No, assomiglio mio amico si chiama scemo Prima domanda Come è iniziata la puntata di oggi? Eh, non lo so Io ero qui E poi Io non saprei No, non so Ignorante Io non saprei Io non saprei Io non saprei Bravissimo Anzi Una roba assurda Bravissima Visto il canale dove siamo io non saprai Molto bene Ecco Trovo una finanzata Il nome del suo amico Il telefono E' arrivato due napoletani Totò E' arrivato Totò I fratelli Totò sono Poi arriva Maria Maria Non parliamo di droghe qui per piacere No, la droga è qua Ce l'ho io e mia Perché poi mi hanno fermato anche con la droga A e B Cornuto Andiamo avanti Cosa ha fatto questa E' arrivata Maria Maria cosa ha detto Va, cioè Va, va Continua a dire Eh fidanzati Finanzati Finanzati Finanziati Finanziati Ha detto finanzi Finanzati Ok Non si capisce niente Fidanzati Poi è arrivato Totò Sono tornati che non erano più Totò Ma erano altri due Era uno solo Un Totò solo Un Totò 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 Ma chi c'è Ok Ci tragga le sue conclusioni Eh E poi è arrivata È arrivata una Una chi? Una Una molto bella Scelga un aggettivo Qualificata Soverata Soverata Andrata Ficcante come peperoncino Sì poi Ha 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 Ferro di ball Ferro di ball L'è andata E poi E poi E poi è finito tutto A me è piaciuto molto Io darei un bel 4 Anch'io Molto bene Ritorni l'anno prossimo No, l'anno prossimo no Che delirio Grazie 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 Ale Franz Ale Sandro Sandro Gigi e Ross Maria Ed Elisabetta Gregoraci Che meraviglia ragazzi Un applaudo A Federico Federico Russo